Dopo un lunghissimo e travagliato viaggio sono arrivati a Notte inoltrata a Giulianova 103 minorenni dall'Ucraina. Fuggiti dalla guerra questi bambini e adolescenti erano a bordo di tre pullman con dieci accompagnatrici. Prima di giungere nel comune Riverasco avevano fatto una tappa di qualche giorno in un centro profughi in Polonia. Il gruppo di giovani ucraini, dai 3 ai 17 anni di età, è stato ospitato in un hotel di Giulianova dove il personale dell'asla di Teramo aveva già allestito un ambulatorio e un locale ad hoc per vaccinazioni e tamponi. Ad attendere i bambini, alcuni dei quali provenienti da un orfanotrofio, c'era il personale della protezione civile, regionale e comunale, della Croce Rossa e una squadra di due medici, tre infermieri, un assistente sanitario e un farmacista. A dirigere le operazioni i dottori Paolo Calafiore e Dimitri Caliacudas, presente anche il vice sindaco di Giulianova Lidia Albani. All'arrivo sono stati immediatamente eseguiti i tamponi antigenici e tutti i passeggeri sono risultati negativi. Da questa mattina, un'equip della pediatria del Mazzini sta visitando i 103 giovani profughi per accertare le loro condizioni cliniche. Dalle prime informazioni sarebbero tutti in buono stato di salute, anche se provati dalle esperienze degli ultimi giorni. Inoltre, l'ASL sta effettuando la registrazione per il rilascio della tessera sanitaria provvisoria ad ognuno di loro e subito avvierà l'iter per le vaccinazioni obbligatorie. Solidarietà e disponibilità è arrivata anche dai pediatri di libera scelta, che si sono resi disponibili nella struttura ricettiva per un'ora al giorno, a rotazione, al fine di fare fronte ad ogni necessità sanitaria dei piccoli. Soddisfatto il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, che ringrazia i pediatri di libera scelta e tutto il personale che si è messo a disposizione per organizzare la macchina dell'accoglienza in collaborazione con il comune di Giulianova. Ci prenderemo cura dei giovani profughi appena arrivati, ha dichiarato commosso il manager di Giosia, non solo perché rientra nei nostri compiti istituzionali, ma perché riteniamo doveroso accogliere con calore un popolo martoriato dalla guerra.